Buongiorno Davido, che fine ha fatto il movimento per il libero accesso alle pubblicazioni accademiche? Questo è il titolo di un articolo che trovate su e-post e sono già qua a dare i link, vi consiglio di leggere questo articolo di Viola Stefanello che è davvero ben fatto, molto esaustivo e va a fare un po' un'analisi di cosa è diventata internet oggi rispetto ai sogni che avevamo come community non tanto di utenti di internet ma di qualcuno che voleva fare internet o provare a fare internet, a costruire un web che facesse anche del libero accesso alle informazioni, proprio uno dei suoi punti cardine, no? E oggi invece siamo di fronte a un web diverso, siamo di fronte a un web che va a mettere paywall davanti alle informazioni che dovrebbero essere pubbliche, un web che blocca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche anche se queste sono state finanziate da fondi pubblici, quindi dovrebbero essere disponibili insomma a tutti noi che giustamente abbiamo contribuito alla loro insomma realizzazione. E questo articolo cita i movimenti che hanno provato negli anni insomma a riportare in auge questa battaglia partendo naturalmente dal caso di Aaron Svarts che poi si suicidò, perseguitato dal governo per aver soltanto scaricato una certa quantità di documenti che erano proprietà di una università e non dovevano essere a libero accesso del pubblico. Insomma mi pare che dopo aver letto questo articolo oggi la domanda sia particolarmente importante, dobbiamo farci questa domanda oggi in un periodo di encitification totale, no? In cui tutti i servizi non stanno cercando di fare il bene del web o di noi utenti ma soltanto delle tasche dei finanziatori di questi servizi, non tutto ovviamente sto generalizzando ma insomma è una tendenza che anche nelle news di oggi cercheremo un po' di vedere, di capire. Insomma farci questa domanda e anche domandarci che cosa possiamo fare noi come cittadini del web. Una volta si utilizzava questo neologismo netizens, ci sentivamo un po' cittadini del web. Oggi probabilmente no, oggi siamo soltanto fruitori passivi, però gli strumenti per provare a fare qualcosa di diverso ci sono. Continuo a spingere sulla crescita del fediverso, dei social network open source e decentralizzati che non hanno una finalità commerciale ma proprio una finalità di condivisione, di conoscenze con i pro e i contro che hanno questi protocolli, hanno dei problemi, cerchiamo di risolverli, ne discutiamo. Però già il fatto che ne stiamo discutendo vuol dire che stiamo cercando di costruire web diverso. Ogni volta che trovo degli articoli che parlano e che hanno opinioni importanti, interessanti, in merito a questo fatto ve li segnalo, mi portano a fare altre riflessioni e quindi insomma io spero sempre che si arrivi a un web, non tanto un web immaginario, ma il web che aveva in mente Sir Tim Berners-Lee quando lo pubblicò, quando lo donò all'umanità di fatto. C'è un web dove l'obiettivo primario sia condividere le conoscenze e non quello appunto di fare soldi con le pubblicità affiliate, ma ne parleremo nelle news di oggi. Allora oggi, mercoledì 17 gennaio, la cutesa sarà quasi interamente dedicata a Google e non proprio a cose positive di Google, non che io ce l'abbia con Google. Poi Google è un colosso, è talmente grande che le singole parti che si occupano di singole cose sono praticamente aziende a sé, infatti si dovrebbe parlare di Alphabet più che di Google, sono conglomerato di aziende, ognuna delle quali ha un suo obiettivo e lo persegue nel suo modo. Ma insomma, fatto questa piccola premessa che non interessa a nessuno, quali sono le news di oggi che riguardano Google. Intanto, una inchiesta, mettiamola così, comunque il report che fa 404 Media, 404 Media, che è una delle fonti insomma che cito ogni tanto come fonte interessante, 404 Media ha pubblicato e commentato una ricerca fatta in Germania che parla di Google Search e dice che la sensazione che avete e che abbiamo che i risultati della ricerca di Google in questi ultimi anni siano molto peggiori di quanto non fossero anni fa non è una sensazione, è la realtà e i dati lo testimoniano. Infatti questi ricercatori dalla Università di Leipzig, dalla Bauhaus University Weimar e dal Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence, quindi sono tre università centri di ricerca, hanno studiato i risultati di ricerca di 7.392 product review, quindi recensioni insomma di prodotti online, mettendo insieme ricerche di Google, di Bing, di DuckDuckGo nel corso di un anno. e hanno scoperto, hanno trovato, insomma hanno in realtà scoperto quello che si aspettavano, cioè che le pagine che hanno un rank più alto nel page rank sono più ottimizzate per naturalmente i motori di ricerca, ma sono anche monetizzate con affiliate marketing, cioè in pratica Google Ads o tutti quegli accordi che si fanno con Google, con i motori di ricerca per fare del targeted advertising, no? E inoltre queste stesse pagine mostrano anche una minore qualità del testo. Inoltre queste pagine che hanno appunto l'affiliate marketing sono una piccola porzione di tutte le product review che hanno trovato sul web, ma sono quelle che emergono di più nel page rank, insomma, nei risultati di ricerca. Insomma, ce lo aspettavamo e hanno anche trovato che gli siti di spam, quindi puro spam, sono costantemente in lotta con Google per il ranking, ma trovano sempre un modo di svangarlo, insomma, di crescere, di arrivare al top della classifica del page rank. Quando Google se ne accorge, combatte questa, insomma, applica una contromossa e li riporta giù, ma in questa gara ci perde. Infatti quella che viene definita dai ricercatori un gioco del gatto e del topo, a vincere sono proprio le pagine di spam che continuano a ottimizzare in ottica SEO le loro pagine per apparire più in alto. Google, in questo lavoro di contrasto, sembra fare un lavoro migliore rispetto a Bing e DuckDuckGo, però alla lunga continuerà a perdere perché ci mette molto più tempo rispetto ai siti di spam a appunto attuare contromisure. E inoltre, arrivando tutta l'ondata di siti di spam generati da AI, questa volta si farà ancora più difficile. Tra l'altro, in una buona investigazione, dice che gli stessi Bing e Google stanno utilizzando l'AI per i risultati di ricerca. Quindi si prospetta un futuro in cui dei robot scriveranno articoli che verranno letti da robot e impaginati in risultati di ricerca da altri robot, insomma robot che scrivono per robot e questo sarà il futuro della ricerca sul web. Comunque questa tendenza è segnalata da un po' anche da altri media, c'è un buon articolo che ne parla, scritto da The Verge, di come appunto il SEO fatto in questo modo ha rovinato internet da un certo punto di vista e alla fine di dicembre una ricerca di Search Engine Land aveva trovato che Google era stato appunto invasa da una orda di siti di spam e sono generati di spam, che è un attacco diciamo che è durato per giorni. Insomma, non si prospetta un buon futuro per i motori di ricerca. Se vi interessa leggere il paper totale, lo trovate, si intitola Is Google Getting Worse? A Longitudinal Investigation of SEO Spam in Search Engines e è appunto una ricerca, trovate su un pdf se volete leggere tutti i dati che hanno analizzato questi ricercatori. E purtroppo in Google dobbiamo continuare anche a parlare di layoff perché c'è stato un altro round, così viene definito insomma di layoff. Business Insider ha riportato che Google ha licenziato centinaia di impiegati che facevano parte del ad team, quindi del team appunto delle pubblicità e i tagli sono soprattutto nel Large Customer Sales, quindi il team LCS che è quello che gestisce l'advertising per i clienti più grandi di Google. The Information aveva già scritto che sarebbero arrivati dei tagli appunto nella divisione Google Ad questo mese e il report segnala che molti di questi sono stati licenziati o riassegnati a causa dell'investimento di Google proprio nell'AI. cioè il fatto che l'AI stia rimpiazzando il lavoro che molti di questi impiegati svolgevano in Google Ad. Infatti anche in Google Ad sta arrivando massicciamente l'intervento dell'AI generativa. Per esempio Google era solita assegnare alcuni compiti a assistenti umani, a questi grandi clienti insomma che facessero dell'ottimizzazione delle campagne per loro. Queste ottimizzazioni invece adesso sono fornite proprio dall'AI, cioè la creazione di asset specifici come delle immagini o dei testi e decidere che tipo di test usare o che tipo di layout usare. Adesso sono impostazioni che vengono svolte dalla AI anche in base al feedback in tempo reale che danno gli ad sul mercato. Quindi capite una risposta così veloce, un adattamento veloce degli ad, quello che fanno gli utenti è una performance che gli esseri umani non riescono a raggiungere. E quindi l'AI ha sostituito dei assistenti umani insomma in queste operazioni. Un'altra tegola per Google era stato sul fine di dicembre, l'ha sconfitto o meglio il patteggiamento in una causa che gli era stata intentata da un gruppo di attivisti perché Google Chrome in incognito mode prometteva di essere insomma una navigazione in privacy. In realtà non lo è e lo sappiamo tutti, diciamo noi power user cosiddetti sappiamo bene che l'incognito mode è soltanto così una finta, no? Qualcosa che dà l'impressione di nascondere cronologia, navigazione eccetera quando in realtà i dati mandati ai server di Google sono esattamente gli stessi che hanno insomma nella navigazione normale. Ebbene però quanto Google scrive quando si entra in incognito mode all'utente normale potrebbe apparire ecco una totale protezione della privacy. E quindi quel testo adesso è stato modificato. Il nuovo testo che è apparso nella versione Canary di Chrome recita adesso diversamente dice altri utenti che useranno questo device non vedranno la tua attività e in questo modo puoi navigare più privatamente con più privacy. Questo non cambia come i dati sono collezionati, sono appunto raccolti dai siti web che visiti e dai servizi che usi inclusi Google e appunto gli altri servizi di Google. I download, i bookmark e le reading list saranno mantenute, saranno preservate. Mentre la versione che c'è adesso su Chrome non menziona i dati collezionati da Google dice solamente che potete fare browsing privato, non più privato. Questa formula è stata leggermente cambiata. Su The Register trovo appunto riferimento a questa causa che è stata intentata da un gruppo di attivisti per aver appunto ingannato gli utenti sul comportamento dell'incognito mode e sul fatto che appunto questa attività non è per niente anonima perché i dati vengono mandati a Google. Quindi tutto quello che l'utente vede, fa eccetera viene mandato a Google. La causa si è chiusa nel dicembre del 2023 appunto con un patteggiamento ma tra l'altro questo ironicamente i termini di questo accordo non sono stati resi pubblici quindi sono in incognito. Gli attivisti chiedevano danni per 5 miliardi di dollari e probabilmente chiedevano anche che fossero cambiati i testi nell'incognito mode cosa che è stata fatta, non sappiamo invece niente dell'accordo economico. Su Ars Technica trovo qualche indicazione in più su questa class action intentata contro Google che riguarda il quarto emendamento e altre leggi della California e insomma se vi interessano le questioni legali trovate un po' di tutti questi dettagli. È interessante quello che dice la class action dice che basandoci sulle parole che Google usa nell'incognito mode ma anche in altri privacy settings, insomma nel suo account su Chrome ecco le persone si aspettavano ragionevolmente che Google non collezionasse dati nella navigazione in incognito e quindi che le parole se è andato in incognito e ora puoi fare browsing, ora puoi navigare privatamente significassero che possiamo effettivamente navigare privatamente. In realtà non è così. Ecco privatamente significa appunto senza che qualcun altro in generale sappia quello che stiamo facendo. Il fatto che Google collezioni dati insomma era una informazione che Google avrebbe potuto e dovuto dare agli utenti che navigano in incognito mode in me invece Google non l'ha fatto. Poi dice, va avanti appunto la causa dice che Google continua a mandare la navigazione lo storico della navigazione ai suoi server insieme ad altri dati anche nel incognito mode quindi la sessione non è per niente privata quindi il termine privato non va bene e tra l'altro anche altri utenti che usano lo stesso device quelli che dovrebbero invece essere all'oscuro delle attività di navigazione svolte in incognito in realtà non lo sono possono invece scoprire quali sono i siti visitati in incognito perché gli ad, quindi le pubblicità servite da Google nel resto della navigazione sono basate anche sui siti navigati e visitati in incognito e quindi uno può scoprire quali sono i gusti di una persona che naviga in incognito basandosi su quello che poi Google gli serve come ads le risposte di Google dice che quando gli utenti hanno ha consentito a creare un account di Google hanno accettato le privacy policy e lì viene scritto che Google colleziona i dati e riceve le informazioni da tutti i servizi che fanno parte insomma delle suite di Google e quindi uno se lo dovrebbe aspettare dice anche una cosa secondo me abbastanza ridicola dice che le persone possono utilizzare Chrome Developer Tools cioè possono aprire Developer Tools di Chrome che possono essere aperti dal menu di Chrome per scoprire quali sono i dati che Chrome sta mandando ai servizi di terze parti e di Google insomma a riguardo dei siti che l'utente sta digitando certo come se qualunque utente possa andare a vedere la network tab di Chrome per vedere quali sono i JSON che vengono mandati dai su una roba abbastanza ridicola e sempre restando nel reame del ridicolo ma un pochino meno Google afferma che gli utenti dovrebbero a questo punto essere consapevoli del fatto che Google li sta tracciando perché queste sono discussioni che si fanno da tanto tempo sui media, nelle news e in pubblico quindi ormai tutti lo dovrebbero sapere ho l'ultima cosa che riguarda Google e riguarda noi cittadini europei perché il DMA ti ricordate il Digital Markets Act con insieme di norme, di leggi insomma che regolano il mercato dei grossi gatekeeper europei che tra l'altro entrerà in vigore definitivamente il 6 marzo quindi ci stiamo avvicinando ebbene, molte compagnie tra cui Google stanno iniziando a fare delle modifiche ai propri servizi per appunto essere pronti alle norme del DMA uno di questi cambiamenti dovrebbe essere già in vigore in Google oggi dico dovrebbe perché in realtà io non l'ho trovato ma vai adesso ve lo racconto un attimino secondo questo articolo che ho trovato su The Verge secondo un'informazione data da Google stessa nelle sue guide adesso gli utenti possono decidere di scollegare alcuni servizi o tutti i servizi Google dallo sharing dei propri dati personali la cronologia, quello che si fa eccetera eccetera tra questi servizi ci sono YouTube, Search, Yad, Google Play, Chrome, Shopping e Google Maps questo viene fatto appunto per conformarsi a una delle direttive del DMA cioè quella di fornire la scelta di dare la possibilità alla gente di scegliere quali dati condividere, in che modo, con quali servizi ebbene, e tra l'altro Google ci fa notare e attenzione che se voi scollegate dallo sharing Search, YouTube e Chrome non avrete più le raccomandazioni ecco le recommendation personalizzate su YouTube e questo potrebbe essere un grosso problema se delincate, non so come si traduce unlink scollegare se scollegate Search e Maps allora Maps non sarà più in grado di suggerirvi delle location per esempio i ristoranti basati sulla vostra attività precedente questo potrebbe essere un grosso problema no? Per voi ma vi dicevo appunto che io non ho trovato questa roba perché nonostante appunto anche in italiano quindi anche per il mercato italiano questa sembra essere già attiva e infatti sulla guida degli account di Google c'è la pagina che si intitola Gestire i servizi collegati e spiega come andare a scollegare i servizi da Google vi dice proprio cosa fare andare sull'account Google cliccare su dati e privacy selezionare gestisci i servizi collegati e poi fare ma adesso vi faccio disclosure totale in barba alla privacy della mia pagina dell'account di Google però vedete che io sono su dati e privacy e questa sezione gestisci i servizi collegati io non ce l'ho non l'ho trovata quindi non lo so o non è stata ancora pubblicata in Italia questa cosa non è ancora disponibile in italiano e quindi nella pagina italiana non c'è può essere può essere questo insomma arriverà nei prossimi giorni probabilmente è strano che ci sia appunto la guida in italiano con i passi da seguire poi in realtà nella pagina dell'account in italiano non c'è ho provato anche da iPhone Android con le altre impostazioni da fare non c'è mai questa impostazione quindi probabilmente arriverà nei prossimi giorni insomma tenetele d'occhio questa pagina se vi interessa gestire bene fare fine tuning sui dati che condividete a Google si intitola gestire i servizi Google collegati la trovate nella guida dell'account di Google per oggi abbiamo finito di parlare male di Google ma volevo chiudere la puntatona con una news che non riguardasse Google insomma per non fare totalmente una monotematica e ne avevo in realtà già parlato avevo già anticipato che sarebbe arrivato il giorno della General Availability di Open Tofu no? quindi Open Tofu è GA GA significa General Availability che cos'è Open Tofu? lo sappiamo già il fork di Terraform Open Source accolto nel gruppo di progetti sostenuti dal Linux Foundation quindi insomma non sto a ripetere tutte queste cose sappiate che il 10 gennaio quindi ormai qualche giorno fa Open Tofu è appunto GA quindi vuol dire che è pronto per la produzione quindi è un progetto considerato stabile e production ready quindi c'è appunto su Linux Foundation l'annuncio della GA di Open Tofu nella versione 1.6 quindi la versione stable per la produzione è la 1.6 e si fa riferimento ai valori che questo progetto i valori condivisi nell'open source che questo progetto porta alla community si citano due esempi una RFC quindi una richiesta di commenti di discussione che poi ha portato a uno sviluppo per una encryption in client side che è una feature che la comunità di Terraform richiedeva da tanto tempo Terraform non l'ha mai implementata anche per delle ragioni in realtà tecniche però sembra che in realtà questa sarà disponibile nella prossima release che è la 1.7 oltre poi ad altre RFC che sono state fatte su Open Tofu Registry che miglioreranno l'architettura e dice questo comunicato la porteranno a essere 10 volte più veloce e 10 volte più economica da gestire io ci andrei cauto con queste moltiplicazioni con questi numeri perché insomma poi non si sa poi bene come vengono collezionati ecco però insomma queste sono le feature di Open Tofu 1.6 ci sono nuove feature per il testing c'è un back-end avanzato con S3 quindi con nuovi metodi di autenticazione mantenendo la compatibilità con lo storage S3 poi c'è un nuovo registry per provider e module e poi miglioramenti alle performance bug fix e altri miglioramenti vari c'è una celebrazione della crescita della community di Open Tofu con dozzini di developer che contribuiscono centinaia di community member attivi anche nelle discussioni migliaia di follower su GitHub insomma decine di migliaia di fan vabbè continuiamo a crescere miliardi di persone che applaudono al progetto me sto scherzando naturalmente ci sono anche tante corporate che stanno supportando il progetto e si citano Cloudflare Bill Kite GitLab e Oracle e poi si dice cosa arriverà nella 1.7 seguite il progetto Open Tofu e seguite Linux Foundation ho nei suggerimenti di lettura di oggi posso essere un pochino autoreferenziale dai un pochino ho scritto un blog post sul tech blog di Spark Fabric che parla di me cioè parla della mia carriera non tanto di me non è una mia biografia parla del mio ruolo io sono un DevRel che è un po' una contrazione di Developer Relations no? e mi occupo di questo in Spark Fabric ed è la prima volta che Spark Fabric attiva questo ruolo quindi per attivarlo abbiamo seguito un processo in cui abbiamo discusso di questo ruolo di cosa dovrebbe fare di qual è la situazione del mercato di qual è la storia del ruolo insomma questo processo ha portato alla nascita del mio ruolo in Spark Fabric e questo processo abbiamo deciso di condividerlo quindi ho scritto il primo di una serie di articoli che pubblicherò sul nostro tech blog si intitola Journey to the Center of DevRel part 1 perché è la prima parte lo trovate su tech.sparkfabric.com che è il nostro tech blog è un articoletto che vi introduce un po' a che cos'è questo ruolo nella industry alla storia che ha avuto che parte dagli anni 80 con Apple e poi si è sviluppata meglio negli ultimi 10-15 anni da Twilio in poi New Relic insomma e quindi vi fa un po' di analisi storiche insomma cerco un attimino di darvi un po' di informazioni di contesto e poi perché abbiamo scelto di intraprendere questa avventura e cosa ci aspettiamo insomma qua mi fermo a un po' le fasi preliminari di questo bootstrap di questo setup e poi nelle prossime puntate ecco se seguirete racconterò un po' meglio quali sono in concreto le attività che facciamo e come capiamo se siamo in carreggiato se dobbiamo modificare qualcosa quindi Journey to the Center of DevRel sul tech blog di Sparkfabric se vi interessa un po' scoprire questa professione potete andare ad approfondire lì e infine visto che oggi ho parlato di come i motori di ricerca hanno rovinato internet e ho menzionato una ricerca un'inchiesta di The Verge che parla appunto di questo ve la linko tra i suggerimenti si intitola The People Who Ruined the Internet l'ho trovata appunto su The Verge con questo link ed è tutta questa inchiesta sullo stato attuale dei motori di ricerca e di come hanno portato a un peggioramento dell'esperienza degli utenti appunto sui siti in generale perché i siti ora cercano più di essere ottimizzati per i motori di ricerca che non offrire dei buoni contenuti ai propri utenti questo insomma è il sunto in poche parole di quello che esce da questo articolo ripeto The People Who Ruined the Internet lo trovate su The Verge e invece a me mi troverete sempre qui grazie per avermi seguito anche oggi spero di avervi dato qualche notizia frizzante e succosa e noi ci sentiamo una delle prossime puntatone ciao ciao